A Fossato di Vico tutto è pronto per nuove sfide a colpi di racchetta. Sono stati infatti inaugurati nuovi campi da tennis comunali gestiti dall'associazione sportiva Vico Tennis. L'area è resa accessibile e diversamente abili, comprende un nuovo campo in resina di ultima generazione, unico nel circondario, dotato di una copertura fissa per la sua salvaguardia, realizzato grazie ai fondi regionali e al confinanziamento del comune di Fossato. Inoltre è stata predisposta anche una copertura mobile per il campo da tennis in terra battuta. Gli spazi così determinati potranno essere messi a disposizione delle scuole, potranno essere destinati anche ad altre attività sportive. Come ha affermato anche il sindaco Monia Ferracchiato, il progetto è stato concepito come tassello di un disegno più ampio che riguarda la riqualificazione dell'area centrale di Osteria del Gatto, dove si trovano gli impianti sportivi, la scuola materna, il distretto sanitario e la piazza principale del comune. Le strutture dell'impianto sportivo sono già state migliorate tramite interventi quali l'adeguamento dell'impianto di irrigazione del campo da calcio, la manutenzione delle tribune dello stesso e la ricostruzione del muro crollato della pista di pattinaggio. L'area messa in sicurezza grazie alla realizzazione di un marciapiedi all'installazione di un guardrail sulla strada limitrofa è stata inoltre dotata di rete wifi con accesso gratuito e dal suo interno è stata realizzata una nuova area giochi per bambini. Nei prossimi mesi poi verrà reso effettivo il tanto atteso efficientamento energetico del palazzetto, finanziato dai fondi europei tramite la regione. Tutto per raggiungere l'obiettivo finale che si è posta all'amministrazione di Fossato, dotare il comune di un polo sportivo che sia attrattivo per giovani ed adulti, in grado di migliorare la vita delle famiglie, rappresentando aggregazione, solidarietà e nuove prospettive per tutta la comunità.